Una forma di vita completa e perfetta? No, al mondo non esiste nulla di perfetto ed è un gran peccato. Ed è proprio per questo che gli esseri umani anelano alla perfezione. Che senso ha questa continua e spasmodica ricerca della perfezione delle cose? Nessuno non ha un briciolo di valore. Io trovo la perfezione assolutamente ripugnante. Una volta raggiunta la perfezione, cosa ci sarebbe d'altro? Non ci sarebbe nulla oltre. Non ci sarebbe spazio per creare altro. Non ci sarebbe modo di creare ulteriori conoscenze o talenti. Lo capisci? Per noi scienziati la perfezione è solo disperazione, non c'è altro termine. Dobbiamo essere migliori di qualsiasi cosa ci abbia preceduti, non importa quale. L'importante è non essere comunque perfetti, questo mai. E un vero scienziato trae diletto proprio dalla sofferenza data da questa contraddizione insita nella tanto agognata perfezione. Perfetto. 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 Grazie a tutti.